Ciao ragazzi, un saluto dell'interessa tedesco. Prima di tutto, scusatemi che sto qui così in giro, ma fa un caldo bestiale in Germania, l'aria condizionata non esiste, non sanno cos'è, perché non è che c'è tanto bisogno, ma in questo periodo fa veramente tanto tanto caldo. Ragazzi, in generale vi devo dire una cosa, penso che io sono un poveraccio, un poverino, non so, io proprio mi faccio pena a me stesso. Ragazzi, che sfiga, che sfortuna, che schifo questi mondiali. Ragazzi, non credo che esiste una combinazione come la mia su YouTube. Io sono italo-tedesco, cioè un quarto italiano, tre quarti tedesco, però ragazzi il mio cuore è italiano, amo la cultura italiana, perciò sto anche su YouTube e parlo in italiano. Ragazzi, la mia amata Italia non è qualificata per questi mondiali, la Germania fa una figura di merda che ovviamente anche lì sono restato male. Poi cosa ho fatto? Sì, vabbè, ho tifato un simpatizzato un pochino per l'Argentina, perché per me l'Argentina è un po' come l'Italia, c'è tanto sangue italiano nell'Argentina. Ok, l'Argentina è uscita e ragazzi la combinazione non è ancora finita, sono un italo-tedesco che vive in Baviera, che tifa Inter, che andrà a vivere in Francia. Faccio un Erasmus in Francia, prossimo, adesso a settembre me ne vado in Francia, ho già trovato la stanza ragazzi, ovviamente la rivale storica della Germania ma anche dell'Italia è proprio la Francia. E' l'ultima squadra, l'ultimo paese che io voglio che vincono questi mondiali, prima di tutto in generale perché sono i nostri rivali, è proprio la Francia e poi io poveraccio vado lì a vivere, che schifo, non voglio arrivare lì e poi quelli sono, i baguette stanno festeggiando, sono contenti. Non voglio arrivare in una situazione del genere, sono un poveraccio, un poveraccio, mamma mia ragazzi, Italia non qualificata, boom, schiaffo in faccia, Germania, boom, schiaffo in faccia, Argentina fuori, vabbè, ci può stare, ma non la baguette, non la baguette, no, per favore no. Vabbè ragazzi, chiuso questa parentesi, allora parliamo della partita. In generale, prima di tutto adesso ovviamente ci saranno tutti i sfoghi contro Muslera, penso che un italiano vero ha tifato contro la Francia, come avete anche tifato contro la Germania, come si sta. E adesso ovviamente tanti sono arrabbiati con Muslera, come erano anche arrabbiati con Karius, lo capisco anche ragazzi, anche io avevo fatto il video dove ho detto togliete la cittadinanza tedesca Karius, che è stato un video ironico ovviamente, ma sono restato male che un portiere tedesco, noi tedeschi storicamente avevamo sempre grandi portieri, ha fatto un errore clamoroso in una finale di Champions League, però continua ragazzi, non è la prima volta, adesso anche Muslera di nuovo, errore clamoroso, poi ripeto c'era Karius nella Champions League, Cappellelero ragazzi dell'Argentina, errore anche clamoroso che non si capiva come l'ha fatto, ma perfino noia ragazzi, mano e noia contro il Giappone, anche una situazione così, un tiro normalissimo, non pericoloso, lui anche fa un grande grande errore, poi meno male è ancora andata bene, però ragazzi ho contato che in questi mondiali ci sono già stati 7 errori abbastanza clamorosi dei portieri, 7 errori clamorosi, ragazzi, io nel video non metterò la verità come fanno tanti, questo è un po' una moda no, la verità sul financial fair play, la verità sul fallimento del Milan, la verità su quello, la verità su quello, la verità non esiste ragazzi, c'è sempre, ci sono sempre tanti motivi, però io quando mi metto a riflettere, io sono stanco di sempre fare i sfoghi contro i portieri, perché adesso succede troppo, succede troppo, perciò io comincio un po' a riflettere e cercare un po' quale potrebbe essere la causa per tutti questi errori, però non è la verità, potrebbe essere una di tante spiegazioni, io mi ricordo Oliver Kahn che alcuni anni fa, ragazzi Oliver Kahn lo conosco molto bene, lui è qui della Baviera, era della Baviera, adesso non so più dove vive, però lui in un'intervista aveva detto un motivo anche per ciò il gioco per il portiere diventa sempre più complicato, è proprio l'evoluzione dei palloni, ragazzi non so, 150 anni fa i palloni erano così pesanti che poteva ammazzare una persona, però era abbastanza difficile tirare, oggi provano sempre di ammigliorare questi palloni, di rendere il pallone più preciso, la velocità è sempre in aumento, questi palloni diventano sempre più veloci, perché il gioco, il calcio deve essere spettacolare, mi ricordo anche un'intervista di Giulio Cesar, che anche lui lo disse un paio di anni fa, e disse voi dovete cambiare qualcosa, questi palloni diventano sempre più non prevedibili, perché ovviamente la televisione, i media, i tifosi, tutti vogliono un calcio spettacolare, vogliono dei palloni quando tirate, quelli fanno un volo incredibile, e anch'io questo ho notato, questi palloni diventano sempre più belli, sempre più leggeri, sempre più perfetti, ma per i portieri ragazzi diventa sempre sempre più difficile, di questo sono convinto, credo due anni fa hanno anche un po' cambiato di nuovo i palloni, perché c'erano tante proteste dei portieri, perché dicevano ovviamente che questi palloni cambiano la direzione all'improvviso, non si possono più controllare per noi, l'hanno cambiato un pochino, però in generale dobbiamo dire ragazzi, i palloni a confronto a 20 o 30 anni fa, sono veramente cambiati tanto, è diventato sempre più difficile per il portiere, questa è la mia opinione, non è la verità, però potrebbe essere una piccola spiegazione, perché ci sono sempre più questi tiri che cambiano la direzione, questi portieri che sbagliano, che tu non lo puoi capire, un professionista che sta in finale di Champions League, oppure oggi è una partita dei mondiali così importanti, tu non puoi capire come mai lo sbagliano sempre in maniera così clamorosa, questo potrebbe essere una spiegazione. Allora ragazzi, in generale la Francia ha meritato, anche se calcisticamente, sempre solo calcisticamente, i baguette a me non stanno simpatici, brutto primo tempo, loro qua ha giocato come doveva giocare, hanno lottato, hanno lottato veramente tanto, però si è visto già nel primo tempo che tecnicamente la Francia era molto molto più forte, poi ovviamente ragazzi, Suarez lì davanti tutto solo, non ha fatto niente, non ha fatto credo, no, non ha fatto neanche un tiro ragazzi, neanche un tiro in porta oggi di Suarez, anche lì di nuovo, io questo lo dico sempre, voi, anche quando Messi fa una partita brutta con l'Argentina, quando l'Argentina non c'ha gioco, tu come singolo giocatore, anche se sei un fenomeno, non puoi fare un cranché, e oggi Suarez mi ha fatto pena ragazzi, cosa doveva fare di più? Suarez mi ha fatto pena, non è arrivato niente, diciamo, loro qua ha provato di giocare come giocano sempre, dietro compatti, con tanti lanci lunghi, e normalmente tu lì avanti c'hai due mostri, con Cavani e con Suarez, anche oggi hanno provato di fare tanti lanci lunghi, ma questo Stunani ragazzi, chi è Stunani? Limitato, veramente limitato, anche tecnicamente, quanti errori che ha fatto, sembrava che non poteva neanche stoppare la palla, ha dato impegno, questo sì, però con l'assenza di Cavani lì, veramente Suarez è stato isolato completamente, ragazzi, in generale, primo tempo, tanta lotta, tanti falli piccoli, meno male i giocatori della Francia hanno fatto bene di restare carmi, perché ovviamente l'Urguay ha provato anche un po' di provocare, cosa negativa, Mbappé un po' come Neymar, quello l'esempio negativo, quel ragazzo con tutto quel talento, quello che c'ha, comincia a fare un po' come Neymar, quando gli tocca un pochino, si lascia cadere, grida, questo mi fa schifo, l'ho già detto in un altro video, purtroppo oggi i giocatori sono così, a me, io sono un po' tradizionalista quando si parla di ciò, però la cosa che volevo dire, una grande squadra, che può anche vincere i mondiali, io sono convinto, sarebbe l'incubo, ragazzi, l'incubo, però sono convinto la Francia può vincere questi mondiali, le qualità ce li hanno, adesso anche in fase difensiva sono molto molto migliorati, però la cosa che voglio dire, una grande squadra, un momento dubbioso, un momento dove c'è tanta lotta, dove non c'è tanto gioco, segna anche con una punizione o con un calcio d'angolo, e questo oggi la Francia ha fatto, Griezmann, ragazzi, c'ha un piede sinistro della Madonna, un piede sinistro veramente fantastico, ragazzi, scrivete nei commenti voi cosa ne pensate, scrivete voi per chi ti fate adesso, ragazzi, nelle ultime partite, io non so più, è un incubo, un incubo questi mondiali, scrivete anche la vostra opinione nei commenti, ragazzi, a me piace interagire con voi sui palloni, voi pensate una sciocchezza, quello che ho detto, proprio un assurdo, o dite, forse un pochino di verità c'è, forse questo potrebbe essere uno dei tanti motivi, perciò, perché noi dobbiamo vedere tutti questi errori clamorosi dei portieri. Ragazzi, un saluto dall'interista tedesco, vi voglio veramente bene, grazie per il supporto, ragazzi, siete i migliori, siete iscritti di altissima qualità, come ho detto in un altro video, ciao ragazzi!